Continuano i controlli da parte dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, coadiuvata da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, per prevenire e reprimere il gioco illegale e soprattutto per salvaguardare quei soggetti fragili che ne potrebbero venire sopraffatti. Nelle province di Catanzaro e Crotone sono stati 44 gli esercizi commerciali coinvolti, dove sono stati sequestrati 31 apparecchi di gioco e denunciati 13 soggetti per esercizio abusivo di attività di scommessa, nonché per frode informatica, avendo utilizzato apparecchio non conforme alle prescrizioni normative, al fine di evadere le imposte. In particolare, gran parte delle apparecchiature erano state alterate con una seconda scheda, detta clone, che, bypassando la scheda regolarmente autorizzata dall'Agenzia, permetteva di non inoltrare i dati al sistema telematico legale. Sono state anche elevate sanzioni che vanno dai 5.000 ai 50.000 euro per ciascun apparecchio manomesso, oltre alla chiusura da 30-60 giorni degli esercizi commerciali coinvolti.